Senza amare non so amare è l'ultimo progetto di sostenibilità ambientale lanciato a Trani, promotore dell'evento e l'imprenditore Beppe Nugnes che nella mattinata di venerdì ha presenziato alla collocazione di un sistema di smaltimento di rifiuti nel porto. La strumentazione resterà attiva presso il modo Sant'Antuono sotto la supervisione della Lega Navale. Un sentito grazie a tutti coloro che con l'acquisto della maglia hanno consentito e devo dire in una maniera estremamente veloce perché la maglia comunque non aveva un prezzo esoso per l'acquisto dello strumento. Un grazie al mio team che ha fatto un grosso lavoro affinché questa iniziativa andasse in porto e soprattutto una grande speranza che sia un primo piccolo passo verso un futuro che vedrà il porto di Trani brillare nei prossimi anni. Il sistema di smaltimento di rifiuti rappresenta un miglioramento della zona portuale in termini sia ambientali che turistici, un passaggio fondamentale per la città di Trani a ridosso della stagione estiva. La qualità ecologica è un punto di partenza per l'immagine dell'intera BAT. L'orgoglio di un gruppo imprenditoriale tutto tranese che comprende prima di tutti che fare impresa non significa soltanto fare profitto, significa anche cercare di cambiare in meglio il mondo in cui noi tutti viviamo, cercando di tutelare e salvaguardare l'ambiente. Questo progetto di fatto va esattamente in questa direzione grazie a tutti coloro che hanno acquistato la maglia, che io ringrazio pubblicamente. Oggi il gruppo Nunes regala all'ambiente uno strumento in grado assolutamente di tutelarlo e salvaguardarlo.